Amici di News F1, buonasera da Matteo Mazza per la 75esima puntata di Formula One Garage. Stasera analizzeremo le ultime notizie della Formula One e poi l'analisi sul prossimo Gran Premio, terzo appuntamento del Mondiale. Vado subito a presentare, a salutare i nostri super ospiti, l'ingegnere meccanico Werner Quevedo, esperto di materiali compositi. Ciao Werner. Ciao Matteo, ciao a tutti. E l'ingegnere aerospaziale Alberto Aymar, esperto in aerodinamica. Ciao Alberto. Ciao a tutti, buonasera. Prima di iniziare vi consiglio sempre la lettura di capire l'aerodinamica delle auto da corsa, con esempi semplici, disponibile su Amazon, anche in formato Kindle. Ne abbiamo ampiamente parlato nel periodo invernale dell'ingresso di nuovi motoristi nel circuito della Formula One. Secondo il rumor è questione di pochissimo ecco tempo per un annuncio ufficiale da parte di Volkswagen per riportare i propri motori nella massima serie, a partire dal 2026. Nello specifico dovrebbe essere Porsche per Red Bull e Audi per McLaren. Alberto, aspettiamo l'ufficialità, ma dovrebbe essere una bella notizia per la Formula One. Come vedi l'ingresso in due team come McLaren e Red Bull. Con Red Bull le aspettative magari potrebbero essere un po' più complicato come cliente. Sì, beh, allora sostanzialmente è un'ottima notizia per due motivi, secondo me. Il primo è il più chiaro, la competizione. Quando la Formula One ha avuto carenza di tecnica, ci sono stati momenti in cui le squadre erano sempre un po' le stesse. Si rischiava di avere poche squadre in griglia intorno agli anni 2000 perché stava incominciando a diventare uno sport veramente molto costoso. E c'è stata comunque la percezione di una carenza anche dell'interesse da parte del pubblico. Quindi sicuramente per continuare questo processo di riattivazione di tutto il circus della Formula One, che in realtà è già più che in corsa con tutte le innovazioni portate fino ad oggi, sicuramente avere dei competitor aiuta. Aiuta a avere ulteriori produttori, ulteriori spinte a evolvere ognuno la propria vettura, il proprio motore. Ma in secondo luogo mi fa anche pensare che se una casa come Volkswagen cerca di entrare all'interno della Formula One, vedremo ulteriori passi avanti in questo sport. L'abbiamo detto, non sempre la Formula One ultimamente dava segnali chiari di che strada voleva prendere. In realtà abbiamo tanti tranelli per uno sport complicato come la Formula One, che è prettamente uno sport motoristico ma basato sulla benzina, sulla combustione interna dei motori. Se effettivamente entrano costruttori come Volkswagen, che sono sicuramente costruttori nella scena mondiale fondamentali e importantissimi per anche lo sviluppo di nuove tecnologie, lo sappiamo benissimo, ad oggi domina in parte Tesla, ma sicuramente Volkswagen e tutti gli altri marchi principalmente europei, ma poi anche tutti gli altri cinesi si stanno adeguando, vuol dire che comunque anche da parte della Formula One ci sarà un orientamento ben preciso, perché ricordiamo Porsche in realtà non è nuova questo tipo di annunci. Già un po' di tempo fa si parlava di entrare in Formula One, ma poi si era un po' bloccata la storia, perché appunto c'era il discorso motoristico che non convinceva la casa. Invece ora potrebbe significare che la Formula One ha inquadrato una strada da percorrere e sicuramente ha le idee un po' più chiare. Lo vedremo meglio nel processo di ingresso di questi fornitori, ovviamente adesso è un annuncio che riguarda la singola squadra, ma secondo me porterà a certe implicazioni anche dal punto di vista della tecnologia. Un grosso ostacolo che hanno dovuto affrontare gli ingegneri nella progettazione delle nuove monoposto è stato il peso. Anche a ridosso del campionato le squadre hanno richiesto alla federazione uno scostamento maggiore per non incappare in penalità. Sono girate molte notizie sui costi che impattano sul budget cap per ridurre i pesi e quanto si può recuperare dall'utilizzo di alcune vernici o di particolari materiali. Berner, qual è il tuo commento su questo argomento? Allora, userò un termine tecnico. Sono girate tante di quelle stronzate in merito che veramente è imbarazzante, come molte testate giornalistiche abbiano buttato numeri su numeri senza senso. Diminuire di peso può essere una cosa che costa un fottio di denaro, può essere una cosa che è praticamente gratis, può essere una cosa che viene fatta alleggerendo i materiali compositi perché una struttura può essere meno rigida, può essere fatto alleggerendo le parti metalliche che non sono state calcolate perché non tutte le parti vengono calcolate, addirittura si può alleggerire la vettura andandoci a guadagnare perché alcuni elementi che sono complessi possono essere eliminati. Ad esempio, andiamo a individuare un esempio classico che è l'ammortizzatore che alcuni team hanno sotto la vettura che serve per smorzare le vibrazioni della parte anteriore del fondo, quello che si chiama splitter o T-Tray. Andando a vedere le varie configurazioni delle vetture, vediamo che ognuno ha un ammortizzatore diverso dall'altro. Capite che questo ammortizzatore è un elemento pesante, quindi basta cambiare il tipo di ammortizzatore. Addirittura, alcuni team, ecco, possiamo vedere gli ammortizzatori, vediamo l'ammortizzatore centrale come un elemento complesso, complicato. Andiamo a vedere invece l'ammortizzatore dell'Alpin. È semplicemente un listello di metallo. Capite quanto può essere grande la differenza di peso? E chiaramente fare il listello di metallo è più leggero ed anche più economico. Quindi, non sempre il peso minore significa maggior costo, però a volte il peso minore può implicare minori performance, perché è ovvio che un sistema massa-molla-smorsatore composto da una molla, un ammortizzatore, dei cuscinetti a sfera, degli snodi, degli attacchi come quello che vediamo ad esempio sulla Ferrari o sulla Red Bull siano complessi e pesanti, mentre di là abbiamo un listello. Chiaramente il listello non avrà mai le stesse caratteristiche performance di un ammortizzatore, però si potrebbe dire, attenzione, che vantaggio mi dà l'ammortizzatore in termini di aerodinamica, perché mi deve tenere lo splitter basso? Mi fa guadagnare un decimo. Quanto pesa un chilogrammo? Se un chilogrammo pesa nella performance, attenzione, sto parlando di pesi, ma intendo di tempi, se un chilogrammo mi fa perdere più di un decimo, allora io preferisco andare con un elemento più leggero, ma non è detto che alleggerire significhi aumentare di costo, è assurdo dire una cosa del genere, cioè può essere vero, può essere falso, ma quindi dire che i team dovranno spendere più soldi per alleggerire è una buttade che non ha senso. Quindi sì, molti team sono sovrappeso, l'hanno dichiarato quasi tutti, sebbene io, fatemi dire, da conoscitore del mondo delle corse, nessuno dirà mai quanto pesa la propria vettura, neanche se lo mettete al muro e gli puntate una pistola alla testa, nessuno dirà mai la verità sulla propria vettura. Quindi, qui si fa un po', nel mio diretto dice, l'arte dello piagne, cioè l'arte del piangere, tutti si lamentano, tutti si lamentano. Adesso sono venuti fuori, chi si è lamentato che la federazione abbia permesso i tiranti sul fondo. Dice la Red Bull che sono stati svantaggiati perché loro avevano già un fondo molto rigido a cui non servivano i tiranti, quindi aver concesso i tiranti è stato uno svantaggio per loro. È tutto un cercare di piangere, di tirare un po' di acqua al proprio molino a livello politico, però, ecco, sicuramente, possiamo vedere i tiranti che sono apparsi su Mercedes e su Ferrari che servono ad evitare che il fondo fletta perché, in teoria, se il fondo flette, sigilla il condotto Venturi e abbiamo la massima deportanza, l'ideale. In pratica, scatena il proposing perché più si alza l'effetto di deportanza, più il fondo sigilla, quindi diventa non lineare ma quadratico, esponenziale e a un certo punto stalla il diffusore, mentre Red Bull sostiene di avere un fondo più rigido, quindi più pesante, perché è inevitabile che qualcosa di più rigido sia più pesante e che quindi non aveva bisogno dei tiranti. Ora, perché Red Bull non fa un fondo più leggero e mette i tiranti? Ci vorrebbe poco perché per alleggerire non ci vogliono grandi tecnicismi, diciamo. Quindi, non prendiamo queste cifre come credibili, anche perché togliere un chilo sulla Ferrari magari è diversissimo dal togliere un chilo sulla Red Bull. Quindi non si può, in alcun modo, dire, sparare queste cifre. È proprio scorrettezza a livello di giornalismo. Sicuramente i team sono un po' sovrappeso e sicuramente man mano che affineranno i vari componenti della vettura, questi pesi scenderanno. Anche perché, ad esempio, correre con un fondo danneggiato e riparato significa che quel fondo peserà di più perché ci si inserisce resina. Sono piccoli dettagli, ma alla lunga si accumulano questi dettagli. Quindi una vettura, la Ferrari di Sainz, la Ferrari di Leclerc non peseranno mai uguale. L'ideale è stare sotto peso e poi aggiungere zavorre. Questo ci si arriverà a fine stagione l'anno prossimo. È normale che all'inizio di una nuova regolamento tutti stiano leggermente sopra. Poi si affina tutto quanto e si va al peso del regolamento. Hai parlato di splitter. Ne abbiamo visti dalle immagini di forme diverse, pesi diversi. Ti sei fatto già un'idea su quello che può essere il più particolare, il più affinato di quelli che abbiamo visto finora? Allora, gli splitter che cosa sono? Spieghiamo bene. Sono una specie di braccio montato su uno snodo e tenuto in posizione da un ammortizzatore o da una stecca. Perché questo elemento? Perché noi vogliamo che la parte anteriore del fondo piatto della vettura, la parte centrale che è un fondo piatto con quello che si chiama skid block, cioè un elemento di usura che quando tocca terra non deve consumarsi più di tanto perché se si consuma più di un tot la vettura viene squalificata. Quindi noi vogliamo che la vettura quasi vada a strusciare per terra perché se qua si tocca per terra è l'ideale. Però non vogliamo che quando la macchina spancia si inneschino meccanismi di rimbalzo, vibrazioni, perché sarebbe un effetto stick slip attacca e stacca che farebbe acceso spento con i flussi. Quindi incasinerebbe completamente tutti i flussi in quella zona. Quindi si inseriscono degli ammortizzatori e delle placche di metallo. Se adesso andiamo a zoomare sull'immagine vediamo che inevitabilmente la parte più estrema e più bassa del diffusore, dello splitter, scusate, è in metallo proprio perché quella parte va a toccare l'asfalto e tende a consumarsi quindi non può essere fatta in composito. Quindi si vuole che quando questo elemento tocchi l'asfalto non vada in risonanza ma semplicemente tocchi l'asfalto e risalga su lentamente anche perché questo elemento che adesso noi vediamo a nudo è carenato e la carenatura che si chiama prua in quella zona bow molti lo chiamano bow o prua se sottoposta a questo effetto di compressione di trazione alla lunga si distrugge e non vogliamo assolutamente che una parte così delicata abbia la carrozzeria distrutta. Quindi è un elemento fondamentale proprio per regolare l'ingresso dei flussi nel sotto vettura quindi è fondamentale è molto complesso e molto pesante però è uno degli elementi proprio chiave è la porta d'ingresso del fondo della vettura quindi nella minima proprio della performance di averlo esattamente nella posizione voluta è fondamentale quindi i team sacrificano peso e budget per inserire tanti meccanismi in quell'area i meccanismi pesano il metallo pesa proprio perché è aerodermicamente fondamentale ci stiamo avvicinando al terzo gran premio e grazie alle riprese e alle foto riusciamo a scoprire insomma pian piano tutti i segreti delle nuove monoposte abbiamo adesso parlato dello splitter e ne abbiamo anche parlato nella prima parte quando ci sono state le presentazioni su quello che nascondono i musetti soprattutto la parte più più esterna eccoci la punta proprio e ne abbiamo viste anche qua diverse soluzioni dalle immagini che vengono soprattutto dal giovedì quando le macchine non sono neanche completate Alberto che idea ti sei fatto sui vari musetti dei vari team ma allora arrivo subito alla tua domanda mentre rispondo solo un attimo era una domanda interessante quella che ha fatto Luigi Iannone anzi un'osservazione interessante riguardo a quello che abbiamo detto prima forse questo faciliterà l'uscita di Mercedes dal circolo della Formula 1 l'ingresso di Audi e Porsche secondo me no perché Audi e Porsche sono diretti avversari commerciali di Mercedes quindi anzi sarà probabilmente una spinta della squadra tedesca a rimanere a mettere ulteriormente radici all'interno del settore della Formula 1 per ovvie ragioni perché sempre più loghi compaiono davanti agli occhi di milioni di persone tu in quella fase non puoi uscire perché sennò ti mangia il gruppo Volkswagen Mercedes sta facendo ottime prestazioni ma anche perché sta dando grande spettacolo di sé grande forza di qualità c'è un gran marchio che mostra tanta qualità se se ne andasse a scapito di Porsche e Audi la mangerebbero immediatamente quindi secondo me no invece per quanto riguarda i musetti allora non ho mai dato troppa attenzione a nessun tipo di articolo riguardante questi musetti so che se ne è parlato tanto ma oggettivamente mi sembrano musetti particolarmente standard le auto sono cambiate lo sappiamo tutti non esistono più S-Duct non esistono più pinne inferiori sotto il musetto non esistono più tante questioni perché di fatto non avrebbero nemmeno più senso quindi di che se ne sia detto queste prese d'aria in realtà non sono che dei condotti per refrigerare l'abitacolo che non è una non è una zona nonostante sia aperto nonostante si possa pensare che proprio perché aperto sia di facile refrigerazione in realtà no in realtà lì l'aria ristagna parecchio per due motivi intanto perché non ha un flusso frontale che fa ricambio d'aria a meno di questi fori e poi in secondo luogo perché tutta la zona del casco del pilota della presa d'aria sopra il casco del pilota è una zona di alta pressione quindi semmai l'aria punta a entrare dentro l'abitacolo ristagnando c'è un minimo di ricircolo ma comunque soprattutto sulle piste calde quando l'aria è molto calda e soprattutto l'aria sopra l'asfalto della pista è molto calda perché lo sappiamo benissimo tutti se camminiamo sotto il sole su un prato verde è diverso sotto lo stesso sole ma sull'asfalto chiaramente tu raccogli tanta aria calda che punta dentro l'abitacolo in quella fase e non hai ricambio d'aria quindi sarebbe molto difficile sappiamo che i piloti perdono chili durante una gara perdono si perdono liquidi hanno bisogno di questi succhi che gli danno energia il caldo soprattutto in piste come vedremo anche solo l'Australia sicuramente sarà molto calda ma piste come la Cina come il Qatar perché no sono tutte piste che sicuramente sfavoriscono questa situazione quindi un minimo di ricambio d'aria ce lo devi avere e indipendentemente dalla forma fammi dire queste piccole prese d'aria funzionano tutte uguali sì è vero la presa d'aria della Ferrari è una presa NACA una presa un po' particolare una presa su cui il flusso passa tangenzialmente e viene sostanzialmente rallentato prendendoli in bocco largo mentre per esempio la presa della Red Bull è una presa frontale quindi il flusso ci sbatte dentro come una qualsiasi presa fino ad oggi vista nella Formula 1 ma non è che una da una prestazione l'altra ne da un'altra stiamo parlando di tre centimetri quadrati su una vettura di chissà quanti centimetri quadrati e poi appunto non si parla nemmeno più di grandi supposizioni secondo me ripeto non so se l'hanno fatto ma se l'hanno fatto hanno sbagliato perché questi condotti non porteranno mai da nessuna parte non sono tre centimetri quadrati a migliorare le prestazioni per esempio sul fondo sul nuovo fondo dietro gli elettoni non cambierà niente semplicemente lo scopo è questo dare un po' di un po' di refrigerio al pilota che sicuramente patisce già parecchio e non dimentichiamo che il pilota sotto sforzo comunque non ha i battiti del cuore come il nostro cioè anche quello aumenta la temperatura colpore del pilota e hanno sicuramente bisogno di questo tipo di dispositivo sì anche perché da regolamento quella apertura mi pare che può essere al massimo 3000 mm quadrati non ricordo male è piccola e può solo avere funzione di raffrescamento e ricordate avete visto magari le immagini dell'interno della vettura delle gambe di Leclerc con il paragambe e le gambe del pilota praticamente i piedi del pilota sono isolati dal resto dell'abitacolo quindi lì fa caldo sostanzialmente perché il pilota quando frena applica 150 kg vuol dire che i polpacci fanno un bel lavoro quindi sforzo calore sia nel corpo umano che nella macchina fare un lavoro produce calore e quindi è necessario rinfrescarlo proprio come diceva Alberto nelle piste più calde soprattutto ne aggiungo un'altra tutta ignifuga cioè insomma ce ne sono di cose che non è come guidare un'auto questo deve essere chiaro per tutti un'auto normale cioè qua si sta parlando di quasi finire nello spazio è un po' come gli astronauti che vengono lanciati da un razzo per parlare delle sollecitazioni vere e proprie un'ora di gara è come se noi corressimo dieci ore è una cosa del genere e prima di passare al prossimo argomento volevo fare una girare una domanda che ci ha fatto Danilo Werner che è sempre di grande attualità vorrei chiedere in che percentuale incide nel budget la realizzazione di un nuovo fondo allora dipende perché non si realizza mai un nuovo fondo quello che è soggetto diciamo a modifiche solitamente è la parte più estrema del fondo ed è quello che si vede quindi se noi pensiamo durante la stagione che vorremmo modificare il fondo facciamo un fondo modulare in maniera tale che la parte più centrale del fondo è sempre uguale e poi cambiano le estremità ora c'è da dire le estremità la cambiamo come come a valle di un processo di galleria del vento di prima iterazione di seconda o di terza iterazione quindi fare il pezzo fare il pezzo è un pezzo abbastanza costoso perché è l'arzigogolato diciamo che solo la parte estrema del fondo può costare qualche migliaio di euro quindi destra e sinistra può arrivare a costare quasi 10.000 euro il fondo è una delle parti più costose se è un fondo modulare ma non sono i 10.000 euro del singolo pezzo a cui vanno aggiunti gli stampi le attrezzature quello che che dipende è quante ore di galleria del vento abbiamo speso per ottenere quel fondo quello è che fa la grossa differenza perché un'ora in galleria del vento costa tantissimo costa molto più progettare il fondo che realizzarlo quindi magari al primo giro di galleria del vento ottieni il risultato magari lo devi fare al decimo giro quindi non si può dire quanto può costare un nuovo fondo comunque il fondo la parte esterna del fondo è una di quelle parti che si progettano sapendo che verrà sviluppata durante la stagione quindi ci sarà una parte del budget cap allocato per le modifiche al fondo quindi è inevitabile ed è quindi una spesa che si è una spesa notevole i fondi sono molto molto costosi però è qualcosa che ogni team sa già che dovrà fare durante la stagione non allocare budget per fare queste spese è da pazzi dopo due anni di assenza a causa del covid il gran premio d'Australia presente in formula 1 dal 1985 prima da Adelaide e poi dopo dal 96 all'interno dell'Albert Park di Melbourne torna finalmente nel calendario eravamo abituati a vederlo come tappa inaugurale ma l'importante è che sia tornato nel calendario e tra l'altro anche con qualche modifica diverse curve sono state modificate sull'ampliamento e poi c'è la chicane fra la 9 e la 10 che è diventata quasi un unico rettilineo un altro sì un unico rettilineo e Alberto ci aiuti a capire meglio il circuito e come potranno influire queste modifiche sui setup delle monoposto sì diciamo che in un colpo solo hanno cambiato completamente tutto ciò che riguarda il circuito in un colpo solo intendo dire la chicane di cui hai citato prima quella tra la 9 e la 10 perché se stiamo a guardare le realizzate a suo tempo avevo curve lente 8 curve molto veloci 4 poi 9 curve lente abbastanza diciamo minori di 60 metri di raggio poi avevamo rettilinei tutti molto brevi 6 rettilinei meno di 400 metri e nessun rettilineo più di 1000 metri compreso quello principale quindi rettilinei molto molto da accelerazione e molto poco da velocità massima totale in realtà poi le curve peraltro non servono le statistiche grafici basta guardare il layout della pista erano tutte curve non dico a tornante ma tante chicane molto strette quindi tutte curve a 90 gradi poi alcune chicane per come sono conformate si percorrono anche con una certa velocità però sicuramente non sono non sono i curboni di Monza ecco la parabolica di Monza è una cosa ben diversa e questo rendeva la pista in realtà abbastanza adeguata a carichi abbastanza alti è vero che avevi tanti rettilinei e che nelle curve lente in realtà la deportanza non ti aiuta ma avevi così poca necessità di velocità di punta elevate che comunque tu cercavi di metterla tutta perché anche se andavi lento ti aiutava ogni grado in più di incidenza ti poteva aiutare e non ti penalizzava più di tanto sul rettilineo sulla velocità di punta finale questo come ti dicevo fino a che non hanno eliminato questa chicane non è stato un caso che hanno cambiato solo quello non avevano bisogno di cambiare troppo altro in effetti se ci pensi per rendere la pista praticamente una pista da altissima velocità perché con una sola chicane eliminata tu adesso hai un rettilineo unico solo sul lato opposto della pista rispetto ai box che di fatto si percorre a pieno gas a piena percorrenza e diventa di fatto importantissima la velocità massima quindi questa è una previsione ovviamente non abbiamo ancora visto nessuno correre sulla pista quindi saranno ciò che vediamo in pista che ci darà la conferma o meno di quello che stiamo dicendo però mi aspetto che questa gara diventi di fatto una gara da carico medio o comunque medio basso sicuramente torniamo a dirlo ma questa in realtà è più una tendenza che in Formula 1 si sta prendendo da anni vincerà di nuovo chi capisce come tirar fuori il massimo carico dal corpo vettura perché tutto il resto in realtà gli alettoni e i diffusori meno resistenza no scusa i diffusori i due alettoni alettone frontale e alettone posteriore meno resistenza creano meglio sarà di fatto tu adesso da non avere nessun rettilineo sopra gli 800 metri rischi di averne uno non ho fatto i conti ma un rettilineo che arriverà 1500-1600 metri se teniamo in conto che l'unica chicane al momento che sarà percorsa a metà di questo unico grande rettilineo è una chicane che si percorre praticamente a pieno gas come ti dicevo si sposa quindi molto bene alla nuova filosofia progettuale che di fatto sta diventando una tendenza piuttosto che un qualcosa di circoscritto e più unico che raro le auto che generano carico da il corpo vettura saranno le auto favorite di nuovo e questo l'abbiamo detto già un paio di puntate fa oramai a prescindere dalla pista in sé più carico sviluppi dal corpo vettura e meglio è per te sostanzialmente stiamo parlando di Red Bull soprattutto di Ferrari troppe altre squadre in realtà non mi vengono in mente perché Aston Martin e Alfa Romeo che sono simili tra di loro sono auto più conformate per l'efficienza aerodinamica e quindi per ridurre la resistenza le loro pance non è che generino troppo carico non generano carico le pance di Mercedes non lo fanno nemmeno quelle di McLaren insomma secondo me vedremo di nuovo una Ferrari e una Red Bull abbastanza competitive Red Bull sicuramente secondo me è un po' la squadra da battere la Ferrari è avantaggiata per un unico motivo probabilmente sarà un po' più lenta di Red Bull e dovrà stare dietro stando dietro potrà avere quattro zone di RS quattro zone di RS io non sto a dire che cosa sono per me queste vetture del 2022 dovevano aiutare a distruggere i distacchi tra chi insegue invece a me sembra che li stanno agevolando solo tramite il DRS come se avessero paura a togliere il DRS perché si vedrebbe la vera natura di questo progetto non lo so cioè quattro zone di RS sono un po' insensate sta diventando un po' una droga però vedremo appunto come ti dicevo Red Bull e Ferrari probabilmente inseguirà un po' inseguendo sarà un po' avvantaggiata da questo punto di vista perché avrà la scia avrà il DRS e comunque è una macchina che può puntare a ridurre l'alettone posteriore in quanto comunque ha delle ottime laterali rispetto alle altre vetture e genererà tanta deportanza Sì queste quattro zone DRS veramente stanno facendo diventare Mario Kart in cui chi è davanti è più lento degli altri perché effettivamente il secondo avrà la scia dal primo se il terzo è in grado il terzo avrà la scia dal secondo e il quarto avrà la scia dal terzo quindi tutti avranno il DRS quindi se tutti hanno il DRS è come se nessuno avesse il DRS tranne chi sta in testa quindi diventa veramente come Mario Kart che chi è in testa e tra l'altro spiego come funzionano perché ci sono due zone di rilevazione e quattro zone di DRS passare dietro entro il secondo nella detection zone significa che per due zone DRS puoi utilizzare il DRS quindi un rilevamento due zone DRS quindi abbiamo visto le tattiche anti DRS cioè inchiodare prima per farsi superare se io riesco ad esempio a inchiodare un metro prima della linea e passarti dietro vuol dire che avrò per due zone DRS il DRS aperto quindi magari io ti passo alla prima curva e poi tu che stai dietro di me non hai il DRS io che sto davanti ho il DRS quindi riesco ad allontanarmi tantissimo quindi veramente c'è il rischio che si facciano inchiodate e fino adesso c'è stato c'è andata bene perché le Clerc e Verstappen hanno inchiodato quando erano paralleli ma se uno è davanti uno è dietro rivediamo le scene dell'anno scorso con squalifiche chiacchiere poi dopo se io inchiodo ok che chi sta dietro ha la colpa ma in Formula 1 non mi posso mettere a inchiodare sul dritto così tanto per quindi i regolamenti non possono essere fatti fidiamoci della del buon senso dei piloti devono essere fatti in grazia di Dio qui stiamo favorendo le furbate cioè il stare un po' dietro al passaggio del DRS che è proprio l'antitesi della Formula 1 essere avvantaggiato a stare dietro e fammi aggiungere da tifoso sono anche un po' dispiaciuto hanno realizzato queste vetture apposta per cercare di togliere il DRS apposta per cercare di togliere l'effetto scia perché ora questi DRS stanno prendendo così piede non ha minimamente senso ma allora questi progetti nuovi funzionano hanno paura ci stanno nascondendo una grande debacle che in realtà queste auto sono peggio di prima noi vogliamo vedere come funzionano realmente queste macchine con il DRS non è chiaramente possibile sì io mi chiedo perché ci sono le sprint race potrebbero fare una sprint race senza DRS sono sperimentali sono dichiaratamente sperimentali le sprint race fate una sprint race senza DRS e vediamo che succede ok sì per ora siamo solo riusciti a capire che riescono a stare dietro un po' meglio rispetto al passato ma finché continueranno a usare così tanti DRS sarà difficile dare un giudizio definitivo si rischia di arrivare momenti simil moto in cui io aspetto l'ultima curva sto dietro chi sta davanti è svantaggiato all'ultima curva io ti attacco e ti supero ti ho preso le misure so che col DRS sono avvantaggiato addirittura neanche all'ultima curva perché visto la storia del detection point e dei due DRS io ti supero subito dopo il detection point e scappo e ciao Pirelli porterà a Melbourne il prossimo weekend le mescole C2 C3 e C5 quindi le mescole più dure sono quelle portate da Pirelli le mescole sono quelle la C2 e la C3 sono come quelle portate nel 2019 ma per la prima volta c'è il salto di mescola quindi invece che la C4 vedremo la C5 Werner oltre alle modifiche sul layout è anche stato rifatto l'asfalto potremmo vedere delle strategie diverse o pensi che la C5 verrà principalmente sfruttata in qualifica? Sembra quasi solo una gomma da qualifica perché poi dopo il salto è veramente grande o la hard viene inutilizzata o la C5 non viene utilizzata affatto cioè è la prima volta che c'è questo salto ed è una cosa abbastanza inusuale su una pista su cui i team non hanno i riferimenti ma mi pare strano cioè penso veramente che la utilizzeranno solo in qualifica e poi dopo in gara andranno con la C3 e la C2 a meno che uno non voglia fare qualche strategia strana tirando partendo ad esempio con la hard tirando la fine alla fine e facendo gli ultimi 5-10 giri da qualifica oppure ipotizzo Ferrari ha la pole position sa che dietro ci saranno i torri rossi in furia e col DRS parto con la C5 cerco di allontanarmi più di un secondo e lui perde il DRS in questo caso potrebbe avere un senso altrimenti C2 e C3 la faranno da padrone e visto che ci sono poche incognite è stata anche allargata la pit lane alzato anche il limite all'interno 80 km orari quindi insomma ne vedremo delle belle questo diciamo che la pit lane a 60 km orari era ancora un anacronismo perché oramai è 80 dappertutto quindi era necessario diciamo fondamentale prima di salutarci vi chiedo i consueti pronostici prima del weekend di gara Alberto ricordandoti il pronostico che avevi fatto per il Bahrain chi non vedi favorito per il Gran Premio questo è un Gran Premio un po' particolare perché come ti dicevo mi spaventa quel lunghissimo rettilineo ma te la butto lì potrebbe essere che la filosofia Mercedes stavolta possa anche andare bene perché effettivamente tu lì hai da prendere tutta la velocità che puoi prendere purtroppo questo giro vede un po' più sfavorita la Ferrari perché di resistenza aerodinamica ne ha probabilmente un po' di più e questo nuovo Melbourne è troppo veloce in gara potrebbe avere il vantaggio lo ripeto grazie al DRS ma probabilmente partirà un po' indietro e non vorrei vedere anche un potrei immaginarmi anche un exploit delle due Mercedes diciamo che per la gara ti dico le due Red Bull e magari due Ferrari però con l'incognita Mercedes che effettivamente è stata costruita per questo tipo di rettilineo Werner per te invece chi è il favorito domenica? Allora in questa gara penso che sul podio se non hai rosso nel nome o nella livrea non ci sperare e chiaramente quello che dice Alberto ha assolutamente senso ma io penso che sarò ripetitivo tutta la stagione per me in primo posto Leclerc perché diciamo che sono convinto che questa stagione quasi a livello calcistico saranno gli episodi a fare la differenza perché abbiamo visto come l'ultima gara una bandiera gialla sventolata per due curve abbia impedito alle Clerc di attaccare Verstappen qui potrebbe ritrovarsi una situazione simile le performance sono ancora molto simili le vetture non hanno ancora aggiornamenti quindi se la Ferrari azzecca il setup cosa che non ha fatto nell'ultima gara può recuperare quel gap che forse la Red Bull ha di vantaggio su questa pista quindi potrebbero essere pari se la Ferrari azzecca un ottimo setup però sempre che il singolo cioè forse la gara scorsa senza la prima safety car l'avrebbe vinta Perez e non avrebbe fatto un triste quarto posto secondo me vedremo come si comporteranno le AS e le Alfa Romeo sono molto curioso vedremo se riusciranno a a essere a sbocciare e a stare davanti alla Mercedes sarebbe un colpo tremendo per la Mercedes e un po' ci spero e ricordando le annate migliori della Ferrari qui a Melbourne vinceva si vinceva ecco quando poi nel finale e quindi insomma ci spero ecco nell'F1 75 e se volete anche voi divertirvi con i pronostici commentate su YouTube il vostro podio per questa puntata di Formula One Garage è tutto vi ringrazio per l'attenzione se non l'avete ancora fatto cliccate sulla campanella per iscrivervi al nostro canale seguiteci anche su News F1 Facebook Instagram e per leggere tutti i nostri articoli saluto e ringrazio i nostri esperti l'ingegnere Alberto Aymar e l'ingegnere Werner Pevedo ciao a tutti appuntamento quindi alla prossima puntata grazie per l'attenzione e buon weekend di gara a tutti grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione